E' stato predisposto dal Terzo Dipartimento Sanità del Comune di Favara, responsabile piano organizzativo architetto Franco Griscenzo, dall'assessore della Sanità Gerlando Cassaro e dal sindaco Rosario Manganella, il primo ciclo di disinfestazione del centro urbano e dei quartieri periferici della città. L'attività prenderà il via dalle ore 23 di lunedì prossimo 10 giugno per concludersi la mattina alle ore 5 del 16 giugno. Nella notte tra lunedì e martedì le aree interessate dalla disinfestazione sono Via Regione Siciliana, Capitano Callea, Viale Pietro Nenni e Via Carlo Alberto della Chiesa. Nella notte tra martedì e mercoledì le vie Regione Siciliana, Capitano Callea, Via Grigento, Via Campagna, Via Caporale Mazza e Condrada Portella. Dalle ore 23 di mercoledì 12 giugno e sino alle ore 5 del mattino di giovedì 13 giugno Le vie interessate sono Via Carlo Alberto dalla Chiesa, Via Ale Pietro Nenni, Via Ugo Foscolo, Via Sant'Angelo, Via Piola Torre, Via Le Berlinguer Traverse. Ed ancora nella notte tra giovedì e venerdì 14 giugno le vie interessate dalla disinfestazione sono Condrada Portella, Via Caporale Mazza, Via Campagna, Via Grigento, Via Ugo Foscolo, Piazza della Libertà, Via Umberto, Piazza Capitano Vaccaro, Via Mendola, Ingrogio, Viale Progresso e Via Embedocle. Il penultimo ciclo di disinfestazione ovvero nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 giugno interesserà Condrada Burgealamone, Viale Ciechevara, Viale Aldomoro, Corso Vittorio Veneto, Via Sant'Angelo, Via Piola Torre. Infine nella notte tra sabato 15 e domenica 16 giugno le vie interessate dalle attività di disinfestazione sono Ciechevara, Viale Aldomoro, Corso Vittorio Veneto, Piazza della Libertà, Via Umberto, Piazza Capitano Vaccaro, Viale Progresso, comprese le strade ad agenti la Via Roma e inoltre il quartiere Quattro Strade. Pertanto i cittadini nelle notti di tale periodo non dovranno lasciare nei balconi e negli spazi aperti nessun prodotto commestibile, biancheria stesa e animali. Inoltre dovranno tenere ben chiuse tutte le aperture delle abitazioni.